A partire dal 10 ottobre l'obbligo di esibire il Green Pass riguarderà anche tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Anche i dipendenti di alcune attività private per accedere alle quali i clienti hanno bisogno del Green Pass, come ristoranti, bar e palestre, potrebbero essere interessati dall'estensione dell'obbligo di certificazione verde. Inoltre l'obbligo potrebbe toccare anche gli utenti che accedono ai servizi pubblici, come ad esempio all'anagrafe. Sul tavolo resta anche l'incognita della possibilità di conciliare obbligo di certificazione verde e accesso al trasporto pubblico locale. Tra mercoledì e giovedì potrebbe essere convocata una cabina di regia del Governo, dopo che il sottosegretario Roberto Garofoli, su incarico del Premier Draghi, avrà esaminato ogni aspetto del tema Green Pass. Nella rapporto Export 2021-Ritorno al futuro, anatomia di una ripresa post-pandemica di Sace, si prevede un rimbalzo dell'11,3% dell'export di beni made in Italy, con un ritorno ai livelli pre-pandemia già nell'anno corrente, quando le vendite raggiungeranno i 482 miliardi di euro. Nel 2022 la crescita dovrebbe essere, secondo le stime, del 5,4%, mentre nel biennio successivo si prevede un aumento dell'export del made in Italy del 4%. Questo ritmo è di un punto percentuale superiore al tasso di crescita medio del periodo pre-pandemico. Il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha commentato la presentazione del report sottolineando che per dare continuità al processo di crescita dell'export sarà fondamentale la gestione della pandemia e dunque anche l'adesione alla campagna vaccinale. Nuovi stop e chiusure dovuti al diffondersi del virus interromperebbero infatti il periodo virtuoso che vive il settore. La Sicilia resterà zona gialla per altri 15 giorni. Lo prevede l'ordinanza del Ministero della Salute e misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria, emessa il 10 settembre scorso e pubblicata sul sito ufficiale del Ministero. Si tratta dell'unica regione italiana a non essere classificata zona bianca, soprattutto a causa della saturazione degli ospedali, criterio fondamentale per l'assegnazione dei colori alle diverse aree dello stivale. Nell'ordinanza si legge che per la regione Sicilia l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021 è rinnovata per ulteriori 15 giorni allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, seppure persista la possibilità di una nuova classificazione qualora la situazione epidemiologica evolvesse in positivo. Dalla regista premio Oscar Paolo Sorrentino al presidente della mostra del cinema della Biennale di Venezia Alberto Barbera, dall'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco fino alla direttrice artistica del Teatro Franco Parenti di Milano Andrea Ruzzama. Questi e molti altri portavoce dell'eccellenza dello spettacolo italiano hanno firmato l'appello rivolto al Ministro della Cultura Dario Franceschini. La lettera aperta chiede la riapertura delle sale cinematografiche degli spazi adibiti allo spettacolo dal vivo al 100% della capienza, così da rendere sostenibile da un punto di vista economico lo svolgimento della professione di migliaia di persone nel mondo dello spettacolo e della cultura. L'arma da utilizzare per garantire la sicurezza degli spettatori pur abbandonando il distanziamento è, secondo quanto si legge nell'appello, il Green Pass, abbinato naturalmente a mascherina e igienizzazione strupolosa. Grazie a tutti.